Quando le seconde generazioni affrontano con le proprie armi l'inserimento nella società che ha accolto i loro genitori, non si trovano a dover scegliere tra due culture, quella di origine della loro famiglia e quella della società nella quale vivono e nella quale sono cresciuti. Al contrario, questi giovani crescono in un mondo bilingue con vari riferimenti socioculturali che li rende cosmopoliti. Il desiderio di vivere in un contesto dove siano superati i nazionalismi e le appartenenze etniche è caratterizzato da un forte rischio di incertezza identitaria. L'aggregazione e la partecipazione associativa diventa per molti una vera strategia nella quale possono esprimere e scambiare l'insieme delle loro esperienze. Questo terreno di lavoro comune tra le nuove generazioni è anche il terreno utile per sviluppare un progetto di approfondimento degli strumenti di dialogo interculturale. Da qui nasce il progetto l'identità multiculturale delle seconde generazioni, promosso dal Consiglio regionale del Piemonte e dall'Angi, associazione nuova generazione italo-cinese. Abbiamo giovani di diverse età che sono nati in questo paese, che vivono qui e anche a Torino questa realtà è molto diffusa e molto presente e meritano un'attenzione, una riflessione e un confronto sulla loro situazione e sul loro modo di vivere la nostra città. CICU, il Comitato Italiano Città Unite, con ANGI, l'associazione che raggruppa i giovani stranieri di seconda generazione, ha deciso oggi di confrontarsi su questo tema, di aprire una discussione per capire da un lato quali sono le problematiche, ma dall'altro quali sono anche le occasioni, l'opportunità che questa condizione di multiculturalità può portare a tutta la nostra società. In un momento in cui il tema dei migranti viene letto nella sua complessità per gli aspetti problematici e rischiando di tralasciare e di disconoscere i grandi valori culturali di ricchezza per la nostra società che ne possono derivare.